Cominciamo con le interviste giustamente e comincio dai vips, veramente dai vips. Roberto Buono innanzitutto vedo una moto molto moderna per te ma con un numero zero. Ma sai come ti ho detto stamattina, più invecchi più va all'interno, è sempre bello valutato. E' come l'handicap del golf. E' come l'handicap del golf, bravo. Allora parlami di questa moto velocemente però, in poche parole. Non pensavo che Ivan riuscisse a tirare fuori un bel mezzo così. Infatti è la moto che è lo 0.4, quella che mi piace di meno, anche se è quella che mi ha dato più soddisfazioni con un bel decimo la Dakar, però questa tecnologicamente non mi convinceva. Invece la cura che gli ha fatto Ivan l'ha fatta diventare molto moderna e molto performante e mi sono innamoratissimo di questa moto qua. Quanti chilometri hai già fatto con questa moto? Ho fatto l'hard, l'hard alt e mi sono divertito veramente come un manto. Ero anche in buona compagnia, con Cerutti e tutta la banda del buco, quindi è stato bellissimo. E qua cosa dobbiamo aspettarci da te? Di divertirmi come ti diverti te, chiuso, cosa vuoi? Il crometro è fermo, meglio di crometro è fermo, non c'è niente. E' vero, è vero. Meno male che è fermo, mi viene da pensare. Nicola, allora la tua è questa invece. Sì. E? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando sempre di un'Africa, di un'Africa Twin, chiaramente il maestro a Borre perché è giusto che deve avere sempre la carena, l'Africa. Mi metterò a posto nel prossimo immediato futuro perché chiaramente così non possiamo andare bene. Però grazie all'intervento sempre dalla mano di Ivan ho fatto una messa a punto fantastica per cui divertente, molto divertente. Senti, Ivan e anche Yarno, io direi, non sono qua con noi perché qualcuno deve pure lavorare a casa. Vi hanno dato qualche raccomandazione speciale? Beh, chiaramente quella di divertirci come ha già detto Roberto e soprattutto Gus. E immagino la raccomandazione di Yarno e Ivan, tieni lontano lui il più possibile, lui sarebbe il Roberto. Questo è regolare, però da un po' di tempo a questa parte facciamo una bella coppia quindi cerchiamo di stare avanti sempre in questa maniera. Vi state tuttanto lontani da casa. Va bene, buon divertimento allora. Grazie. Ciao. Grazie, Beppa. Grazie mille.